amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati ben sbarcati nel 2023 è la prima intervista la prima nostra intervista della dell'anno nuovo presento subito il mio ospite benvenuto ben ritrovato cosimo massaro ciao caro carlo grazie di cuore per aver invitato e sono onorato di essere il primo ad aprire il nuovo 2023 con te avevamo un paio d'anni fa fatto un'ultima l'ultima puntata del vaso di pandora quindi in prospettiva dell'anno nuovo l'avevamo fatta anche con te tra l'altro quindi in questo caso siamo proprio esordiamo con l'anno era un'intervista tra l'altro non prevista questa ma visto l'evento l'avete capito già dal titolo di copertina l'evento di benedetto di joseph ratzinger quindi siamo qui a parlare con te cosimo fare una un'analisi di della figura anche di benedetto sedicesimo senti io partirei con il un titolo che secondo me proprio già fotografa perfettamente il titolo di repubblica oggi in prima pagina non perché l'ha scritto repubblica in realtà ma perché secondo me è estremamente interessante il titolo proprio telegrafico è con un joseph ratzinger in bianco e nero in controluce l'ultimo conservatore e poi ezio mauro che dice all'interno con la chiusura del 265esimo papato si è aperta l'era moderna della chiesa ecco l'ultimo conservatore quasi neolingua secondo me prego guarda ma in effetti vedi repubblica delinea proprio il pensiero tra virgolette del deep state del nuovo ordine mondiale del pensiero unico dominante in effetti benedetto sedicesimo era colui che manteneva in piedi ancora la tradizione era colui che disse che se perdiamo le nostre radici storico culturali per l'occidente e la fine era colui che diceva e denunciava queste cose quindi in effetti era il papa il vero papa perché dopo tutto ciò che è accaduto bergoglio e tutte le analisi che abbiamo fatto nella situazione vaticana non lo riteniamo in effetti il vero papa è caduto e sono accadute tante cose molto molto gravi che il tempo farà sicuramente uscire fuori benedetto sedicesimo era colui in effetti in scia anche con santo maso d'aquino era colui che aveva trovato un perfetto equilibrio e proponeva quel perfetto equilibrio tra fede e ragione quindi come dire era colui che non si vergognava delle nostre radici storico culturali e diceva dobbiamo riconoscere e capire da dove veniamo per capire dove andare invece la chiesa di oggi quella modernista quella cui si riferisce appunto il titolo di repubblica non è più quella chiesa di dio del padre eterno di gesù cristo ma è semplicemente quella chiesa fatta a misura dell'uomo bene la chiesa non può essere fatta a misura dell'uomo e secondo i capricci dell'uomo la chiesa doveva fare la chiesa doveva essere un baluardo per mantenere le sue posizioni e niente oggi purtroppo con vergoglio si è si è arrivati ad una chiesa a fine poi a tutto ciò che è accaduto anche nel periodo pandemico a fine a quel globalismo che sta creando quella chiesa degli uomini si è aperta si è aperta dice zio mauro si è aperta l'era moderna della chiesa anche qui l'era moderna ma anche questa può essere in qualche modo neolingua l'era moderna della chiesa cosa vuol dire l'era moderna del papa che telefona a casa dei 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 cittadini al papa che almeno formalmente così e così vicino così amico di tutti allora l'era moderna si riferiscono al modernismo a quel modernismo il progressismo che entrato all'interno della chiesa e dobbiamo dire non è che sia aperta oggi sia aperto e si sono spalancati portoni dal concilio vaticano secondo è stato un continuo un continuo aprirsi e ad acchiudere alla tradizione nel senso che ad esempio anche per prendere un fare un solo esempio benedetto sedicesimo è stato colui che aveva istituito nuovamente come dire il rito tridentino c'è quella messa che si è fatta per duemila anni quella messa recitata in latino quella messa dove il prete era rivolto verso al signore verso gesù cristo poi col concilio vaticano secondo sono cambiate tantissime cose anche nella liturgia il prete ha girato le spalle a gesù cristo e si è a chi ci ascolta anche di poter andare qualche volta se c'è in qualche posto qualche messa tridentina dove si percepisce proprio la sacralità anche della diciamo della messa ecco lui era era questo era quello che voleva una chiesa che avesse delle profonde radici nella sua nascita e nel suo essere oggi appunto il modernismo è una chiesa moderna bisogna capire cosa intendono questi oggi per moderna e sì e lì è tutto è tutto un capitolo come trovi la modalità in cui stanno diciamo trattando in questi giorni benedetto sedicesimo come sta trattando la stampa quindi il mainstream perché per noi stampa vuol dire mainstream no praticamente ecco tra l'altro papa bergoglio dice dio ce l'ha donato ecco la stanno lo stanno molto diciamo apprezzando in questi in questi giorni come almeno almeno a parole però dopo dici l'ultimo conservatore poi alla fine come come trovi queste celebrazioni di questi giorni di benedetto sedicesimo hai detto bene carlo solo a parole però dobbiamo essere onesti con noi cioè dico è stato il papa che ha dato notevolmente fastidio appunto a quel dip state a quel globalismo a quell'imperialismo della moneta debito al nuovo ordine mondiale cioè ricordiamo i messaggi forti che ha lanciato cioè per dire era il papa che disse il diritto di ogni popolo è quello prima di non emigrare rispetto a quello di emigrare quindi il diritto di per ogni popolo di vivere con dignità la propria terra in contraposizione con l'immigrazione voluta e forzata dai sistemi e dai poteri forti era il papa che aveva aperto un dialogo bellissimo col cristianesimo ortodosso cosa gravissima per i globalisti perché il cristianesimo ortodosso che sta in russa nella federazione russa dove si stava creando quel collante anche spirituale perché la russia come dire alle nostre stesse radici culturali greco romane cristiane ecco l'unione spirituale delle dei popoli europei rappresentato dal papa e dalla chiesa occidentale con l'unione del cristianesimo ortodosso orientale era un pericolo per il dip state il nuovo ordine mondiale che hanno da sempre lavorato per dividere della russia dall europa e lo stiamo vedendo anche in questi giorni quindi sono state tante le cose che nell'opera di benedetto sedicesimo che ha dato notevolmente fastidio a quei poteri al mestrim quindi cosa stanno facendo oggi in questi giorni fanno retorica dicono le cose superficiali si dicono è stato un grande teologo ma nei fatti non vanno nel concreto cioè non vanno a dire come è stato destituito come il meccanismo non vanno a raccontare che hanno chiuso i conti swift della banca dello york per costringerlo poi alle dimensioni alle dimissioni mettendosi in sede impedita c'è veramente da questo punto di vista e tabula rasa sul mestrim non le vanno a dire queste cose quindi fanno quella retorica che devono portare avanti giusto per farsi vedere questo è il mio vero anche perché se è vero come è vero che una belle parole per una persona che è defunta non si negano mai a nessuno no figuriamoci per per una figura come benedetto sedicesimo e senti ecco ma una domanda allora vediamo di fare un po se è possibile un po di chiarezza no nel 2005 allora diciamo sono passati adesso ormai sono 18 anni però voglio dire il globalismo no era già in pieno in piena espansione in piena esplosione ecco e con il seno di poi possiamo dire sul perché allora è stato eletto josef ratzinger papa benedetto sedicesimo che era una figura che in questo senso sarebbe stata non in linea no poi desiderata o con le direttive della della del globalismo faccio una domanda anche provocatoria cosa è stato un incidente di percorso allora per il globalismo è stato un incidente percorso perché dai miei studi e dalle mie ricerche mi risulta che già nel primo tentativo fu si cercò di fare leggere bergoglio solo che non ci riuscivano sebbene abbiamo parlato anche qui tante volte con te della mafia di sangallo e che cos'era la mafia di sangallo erano cardinali che si incontravano sangallo in svizzera e come dire per cercare di e pianificare l'elezione del nuovo papa non ci riuscirono la prima volta e ci sono riusciti la seconda volta ma come destituendo appunto facendo un golpe all'interno del vaticano e piazzando poi bergoglio la mafia di sangallo che cos'era erano appunto questi cardinali che si riunivano e e secondo il diritto canonico non è possibile che dei cardinali si riuniscano in maniera anticipata ad un eventuale conclave per decidere e mettersi d'accordo su chi eleggere come papa perché la questione del papato non è una questione di elezioni cioè come può essere da un punto di vista civile democratico cioè si chiudono nel conclave perché questa nuova elezione deve essere ispirata dal padre eterno quindi non ci possono essere accordi messi sul banco in riunioni segrete che facevano per dire sangallo ecco e da questo punto di vista la prima volta magari non è andata bene questa cosa e al secondo tentativo destituendo perché ricordiamoci che voglio dire stato destituito cioè si è dimesso ma cosa con una lettera anche piena di errori che un una persona altamente colta come lui che conosce perfettamente il latino non avrebbe potuto lasciare tutti quegli errori in quella lettera che che ha scritto di dimissioni cioè sono tantissime le cose tantissimi segnali ha lasciato quindi per il globalismo non andava bene in seconda battuta sono riusciti poi a inserire Bergoglio e ricordo un'altra cosa in particolare poi chiudo quest'altra parte c'è l'enorme condanna che fece benedetto sedicesimo al relativismo al a quel relativismo imperante che poi è sforciato e ha fatto amplificare notevolmente la cultura genderista transumanista e postumanista perché tutto parte anche con la base quel discorso e quella filosofia appunto del relativismo senti e cosimo possiamo aggiungere qualche mattoncino sul diciamo sulla questione delle dimissioni di benedetto sedicesimo fra poco a giorni diciamo saranno proprio dieci anni perché diede le dimissioni appunto che tu hai appena evocato l'undici febbraio del 2013 quindi sono praticamente dieci anni possiamo dire ancora qualcosa lì e allora lui dichiarò appunto anche nella sua comunità quella comunicazione di quella mattina 11 11 febbraio 2013 che le sue dimissioni erano dovute a motivi di salute noi di energia ecco tu puoi possiamo dire come dicevo aggiungere qualche mattoncino in più su questo su questa vicenda su questa vicenda guarda tra i primi che denuncio tutte queste cose che io seguivo e seguo fu dommi nutella sinceramente fece notare che c'erano tante cose che non andavano il fatto anche di dimettersi perché non stava bene in salute vediamo come sono andati i fatti realmente anche lì c'è sono passati dieci anni e ed ha avuto tanta salute per poter proseguire evidentemente non era la vera motivazione quello come diceva anche dommi nutella ha mantenuto sempre anche la talare bianca e si è fermato sempre come si firma un papa c'è stavano tantissime cose che in quelle dimissioni appunto non quadravano e dommi nutella è stato tra i primi a denunciare questa cosa fra lui poi tanti altri ricercatori che in seguito sono andati avanti tra cui anche fra le di roma che conosco benissimo che abbiamo parlato tante volte dove lui esperto di latino nel rileggere appunto la lettera di dimissioni di benedetto sedicesimo fu il primo a trovare enormi errori su quella lettera e come dire è come errori proprio degli errori sintassi basilari come se l'avesse scritta magari un bambino dell'elementare che scrive una lettera in italiano c'è una cosa che da benedetto sedicesimo era inconcepibile perché esperto e come uomo come grande teologo c'è una mente eccelsa come la sua no e quindi 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 praticamente le sue le sue dimissioni sono state dovute alla alla sua percezione consapevolezza di non avere diciamo l'energia sufficiente per in realtà per affrontare le tematiche gravissime che c'erano in quella in quel momento tipo cito per esempio i i vati leaks che cominciavano a prendere piede la lobby la lobby gay giusto per citare le primissime i primissimi scandali insomma ma guarda ti posso rispondere con una sua frase pure c'è che vada a memoria anche per per le sue citazioni naturalmente non le sto leggendo ma me le ricordo più o meno così e fondamentalmente lui per quanto mi riguarda per quanto la penso io ha voluto lasciar fare c'è nel senso ha detto deve la chiesa deve seguire il suo corso e come dire si è rinchiuso si è rinchiuso in una preghiera sicuramente continua e lui in una sua cita c'è cito testualmente lui disse che la chiesa la chiesa che abbiamo conosciuto fino ad oggi sarebbe finita e sarebbe risorta attraverso un piccolo nucleo di veri cristiani indomito che all'avrebbe fatta rinascere cioè come dire doveva seguire il suo corso ecco questa chiesa ed effettivamente sta andando così stanno quindi praticamente sarà una chiesa molto molto diversa da quella che che vediamo che c'è adesso insomma in pratica assolutamente sì perché la chiesa come delle origini sarà un ritorno alle origini assolutamente ma è quello che secondo me a cui si riferiva benedetto sedicesimo quindi sarà una chiesa più piccola ristretta ma di persone realmente credenti dove poi citava anche in questa frase perché dio opera in questo modo mettendo alla prova le proprie creature e facendola poi rinascere questa chiesa attraverso queste alte personalità queste anime profonde che sono riuscite a rimanere integre perché la chiesa di oggi appunto è progressista e modernista e totalmente allineata al nuovo ordine mondiale e quindi che cosa che cosa si può dire cioè almeno per chi sta cosa ne sarà cosa ne sarà cosimo di questa di questa chiesa per come la per com'è attualmente per come la vediamo noi beh la chiesa della chiesa appunto degli uomini la chiesa che si è preoccupata solamente della salute fisica e non si è preoccupata della come dire della salvezza delle anime la chiesa che ha tolto l'acqua benedetta e la sostituita col gel sanitario la chiesa scientista che si è affidato solo alla scienza dove bergoglio disse che il vaccinarsi è un atto d'amore può essere una chiesa sarà una chiesa che si squaglierà come neve al sole sarà una chiesa così una chiesa che sarà buona ottima per il globalismo per il nuovo ordine una chiesa una chiesa new age una chiesa politica una chiesa che farà politica una chiesa appunto degli uomini una chiesa che sarà tipo un'associazione una onlus ecco e questa chiesa non può essere la vera chiesa è chiaro senti nel frattempo allora la chiesa attuale è in questo momento il governata da papa bergoglio che ha predisposto le sue future dimissioni no è una notizia che ha dato ha suscitato parecchio clamore no anche questa ecco cosa cosa significa questa predisporre le sue future dimissioni e cosa comporta e questo ora io non ho la sfera di cristallo però obiettivamente è una cosa gravissima cioè oramai sembra entrato in maniera abitudinaria che un papa si dimette ma non non ha mai funzionato così sono state sempre se sono capitate sono state delle eccezioni reali ma non può capitare una cosa del genere che cosa accade io ripeto non ho la sfera di cristallo però la situazione nella chiesa attuale è molto grave anche perché se si dovesse andare a un conclave questi cardinali eletti da bergoglio non dovrebbero essere nemmeno validi se poi sono eletti e operano nel conclave cardinali affini diciamo a quelle politiche di cui abbiamo parlato oggi cioè in questo momento mondialiste che cosa può uscire fuori un altro papa in linea con il globalismo e ma se tutto nasce da già dagli errori del concilio vaticano secondo a seguire un errore dietro l'altro chi ha cercato di mettere qualche freno e voglio dire come benedetto sedicesimo o come papa luciani che dopo poco tempo e mamma dei 33 giorni dei 33 giorni che aveva aveva scoperto tante magagne all'interno dello dello ior con marcifus e tante altre cose ecco quindi è una è una chiesa attualmente dominata dall'interno purtroppo dai poteri forti e dalle massonerie che lavorano in rappresentanza delle forze sicure senti e dicevi proprio sta diventando come diventerà una una simile ad un'associazione alle ong dicevi dove un papa può dare come in qualsiasi associazione dove la figura di vertice può dare le dimissioni insomma ecco se analizziamo realmente da un punto di vista della sacralità di di un'istituzione ma non stanno in cielo né in terra una cosa del genere è come dire che magari gesù cristo avesse dato le dimissioni perché non poteva affrontare quello che doveva affrontare cioè ma e stiamo all'assurdo perché il papa tecnicamente doveva essere il ricavio di cristo interno cioè quindi se tu bergoglio per dire quando feci anche questo esempio tu sei liberissimo di pensarla come vuoi ma ti dovresti fondare la tua chiesa non puoi rappresentare una chiesa che ha tutt'altre posizioni è chiaro e quindi si si va proprio contro tutto quel diciamo quel messaggio millenario di oltre 2000 anni che la chiesa ci ha tramandato senti cosimo gettiamo uno sguardo sul futuro che potrebbe essere un futuro anche abbastanza prossimo no perché papa vergoglio che ha un punto dei problemi di salute quantomeno motoria diciamo no però è un'età che comincia a essere comunque anche per un papa abbastanza avanzata perché 86 anni e appunto ha appena redato il documento di dimissioni no future quindi potrebbe avvenire in un qualsiasi momento anche in tempi medio brevi diciamo no e secondo te che papa potrebbe succedere a bergoglio ci sono delle possibilità che venga eletto un papa in discontinuità rispetto a bergoglio ecco questo era quello a cui mi riferivo prima non ho la sfera di cristallo ma come si dice le vie del signore la domanda è ovviamente come sempre domande di previsione sul futuro sono sempre domande un po ingrate no ma in base diciamo agli elementi no in base in base agli elementi che abbiamo ora non c'è buona speranza di questo perché buona parte dei cardinali sono stati poi collocati da da bergoglio e sono in linea con il suo pensiero quindi la prospettiva da questo punto di vista non è buona per dire che si cambia la linea e si ritorna una linea più tradizionalista però come dire tutto può accadere ecco però i presupposti che abbiamo ora non sono questi non ci potano pensare o avere subito speranza che ci sia un cambiamento di direzione mi spiego non ci sono non ci sono i presupposti in questo in questo momento vedremo perché ovviamente siamo in una in una fase in in tutto quello che sta avvenendo comunque estremamente complessa ma siamo in un pieno tornante della storia quindi vedremo anche questo che riflessi avrà sulla sulla chiesa senti cosimo ti ringrazio per questo per questa tua disamina questo primo intervento nostro che come ho detto apre il 2023 del vaso di pandora ma noi ci rivedremo a breve perché è uscito proprio in questi giorni il tuo nuovissimo libro quindi avremo occasione di presentarlo e di parlarne dei temi e lo vediamo qui in sovraimpressione apocalipsis tempore per la ginkgo edizioni quindi avremo sicuramente occasione di parlarne prego di me sarà un piacere per me parlare di questo libro che è un romanzo è una trilogia che ho completato e che ho iniziato a scrivere col mio primo romanzo la moneta di satana a seguire la caduta dell'ultimo impero e poi la terza parte il tempo dello svelamento appunto il tempo dell'apocalisse dove tutto si sta svelando e ti cito una cosa perché in questo romanzo parlo del mito del vaso di pandora che come si chiama anche la tua bella tv quando a pandora gli fu consegnato il vaso gli dissero di non aprirlo ma siccome la curiosità è donna lei lo aprì e tutti i mali uscirono nel mondo però una cosa rimase molto importante in quel vaso rimase la speranza ecco non perdiamo la speranza e apriamo questo nuovo anno anche se duro però ricco di tante battaglie con tante vittorie che sono sicuro che le porteremo avanti con la forza della verità ecco quindi speranza e verità ci daranno la forza di proseguire questa nostra lotta contro il nuovo ordine mondiale e contro tutto quello che stanno facendo speranza verità e aggiungerei anche consapevolezza e questo diciamo è un'altra delle nostre missioni grazie grazie a cosimo massaro grazie a te e a presto saluto te e tutti coloro che ci hanno seguito ciao grazie a tutti voi amici ascoltatori buon 2023 nuovamente a tutti buon 2023